. Voilà! Dentro tutti e due. Uno... Poco eh, seriamente poco. Ascoltavi, non è lui che decide. Non sei! Per i piacere. Sei, mettiti comodo. Giro d'orecchie. Collo pulito. Massimo, tre dita sopra. Tre dita. No, dai. Tre dita. Sì, sì. Mi fai quanto dita? Cinque. No? Già ti sta allargando troppo. Scusa, scusa, scusa. Hai ragione? I capelli ricrescono. Lasciatelo dire a uno che si intende. A me fai un po' la sfumatura qua. Fai lavorare lui, non roba. Fai lavorare lui. Già sta chiacchierà troppo però. È quello il problema. Prendi l'esempio da un uomo. Stai zitto e accetti le conseguenze. Ah, io il taglio dei capelli l'ho detto, mi hanno proprio fatto un favore. Cioè, stavo qui. I capelli lunghi, brutti della tinta vecchia. Anzi, che mi è pure rimasta un po' di tinta, sono pure carucido, vede? Grazie. Sì. Sì. Grazie a tutti